Il strip è l'acronimo G Il strip è l'acronimo G che ci rimane rimpiuti Perché? Perché nel 94 quando abbiamo aperto c'era una crisi economica che era veramente devastante aveva chiuso la metà dei negozi esistenti a Milano soprattutto poi in ticinese Non conosciamo le dita, speriamo di rimanere in piedi Giochino di parole, fateci rimanere in piedi Flip